buonasera tutti amici di vanilla stasera andiamo in onda spero mi sentiate bene almeno stasera andiamo in onda in un formato un po diverso rispetto alla fotocamera perché niente quella quella esterna ha deciso di fare le bizze ho provato a sistemarla fino adesso ma senza alcun successo purtroppo quando si resettano i computer e si parte da zero ogni tanto capita anche questo quindi accontentatevi di non vedermi troppo troppo bene però se non altro dovreste sentirmi benissimo allora racconto un giallo di ferragosto uno dei tanti gialli che su vanilla ci hanno caratterizzato datemi subito un feedback se l'audio almeno è buono perché quella è la base proprio di tutto e poi dopo comincio leggerò l'articolo non una ma un paio di volte così funziona meglio le persone che verranno dopo vedranno riusciranno a sentire l'articolo ecco bene perfetto tutto bene allora direi che è passato un minuto e dodici oggi comincio molto presto articolo l'ha scritto roberto cocchis si chiama si intitola cronaca di un ferragosto di sangue il tragico uxoricidio di dorothy strattem quello del 1980 sarà davvero un bruttissimo ferragosto per patti lorman ma mai quanto avrebbe potuto essere se le cose fossero andate appena diversamente patti 17 anni è una ragazza della provincia americana che si è andata fino a los angeles pensando di sfondare nel mondo dorato dello spettacolo la via più rapida per farlo quando sei una ragazza giovane e bella sono il concorso di bellezza ovviamente bisogna affermarsi in quelli conosciuti e seguiti dal pubblico di tutti gli states ad esempio quelli della rivista playboy e patti pensa di aver centrato il bingo quando ha incontrato un fotografo e manager canadese di 29 anni paul snyder che conosce bene quel mondo e ha svolto un ruolo di primo piano nell'affermazione dell'ultima starlet uscita dalle pagine di playboy per essere proiettata direttamente verso il successo cinematografico dorothy strattem appena ventenne che anche sua moglie anche se i due stanno per divorziare paul è generoso e protettivo arriva anche a ospitare patti in casa sua intanto che realizza per lei dei book fotografici da spedire a playboy anche un uomo che sembra profondamente ferito dal fatto che dorothy a suo dire lo ha prima sfruttato per fare carriera e poi mollato per un uomo molto più facoltoso e influente il regista peter bogdanovic mi parla spesso anche a patti l'ultima volta che lo fa è la sera del 13 agosto del 1980 41 anni fa la mattina del giorno dopo giovedì 14 agosto patti esce di casa presto per vedersi con delle amiche rientrerà solo alle 23 45 di sera quello che patti ignora è che snyder non è solo amareggiato dall'esito del suo matrimonio bensì letteralmente ossessionato dalla gelosia per dorothy non lo sa patti e non lo sa neanche dorothy che sta cercando di trarre di trattare con lui le condizioni per un divorzio il più amichevole possibile tanto amichevole da essere disposta ad affrontare ora che le cose stanno andando bene un notevole sacrificio economico per tenerlo tranquillo infatti quella mattina intorno alle 12 si reca a casa di snyder in west los angeles per consegnargli mille cento dollari in contanti circa un paragone di 3500 dollari odierni che sono solo il primo acconto di ciò che spetterà l'ex marito in seguito al divorzio un'altra cosa che le due ragazze non sanno è che da diversi giorni snyder sta cercando di procurarsi un'arma da fuoco cosa che all'inizio gli è stata piuttosto difficile visto che è un cittadino canadese è negli stati uniti senza permesso di lavoro ma solo con un visto turistico e nessun armiere è disposto a vendergli nulla da qualche tempo ha assunto un detective mark goldstein per far seguire la moglie ha cercato di convincere goldstein a comprare un'arma per lui ma il detective si è rifiutato si è fatto prestare una pistola da un conoscente e si è appostato il 31 luglio nascosto tra gli alberi di un giardino davanti all'albergo dove dorothy è andata a vivere dopo averlo lasciato probabilmente per spararle ma proprio quella sera dorothy è andata a dormire altrove e il piano è fallito il 6 agosto snyder è stato costretto a restituire l'arma al proprietario e lotto si è visto con dorothy a casa tentando un'ennesima riconciliazione ma inutilmente poi ha puntato sulle inserzioni di vendita di armi usate sui giornali il primo tentativo l'11 agosto è nato a vuoto perché non conoscendo bene l'area di los angeles si è perso per strada mentre cercava di raggiungere il venditore ma il 13 agosto ce l'ha fatta a procurarsi un'arma un fucile a pompa calibro 12 al 20 al venditore ha detto che gli serviva per andare a caccia prima di procedere con il resto della storia però diventa necessario presentare i due protagonisti della stessa paul snyder e dorothy stratten snyder è nato a vancouver nel 1951 figlio di genitori divorziati cresciuto in strada nei quartieri malfamati delle stand cittadino ha lasciato presto la scuola e si è messo a fare tutto quello che capitava perché ha avuto sempre un certo ascendente sulle donne specie quelle sprovvedute il suo miglior business è sempre stato la prostituzione nascosto dietro il paravento dell'organizzazione di gare automobilistiche e mostre di automobili nel giro lo chiamano il magnaccio ebreo perché porta al collo una catena con la stella di david a un certo punto ha deciso di fare il salto il salto di qualità entrando nello spaccio della droga ma poiché di droga non sa niente non è neanche un consumatore anche se secondo alcuni in seguito diventerà dipendente dalla cocaina e questo avrà un'importanza decisiva nel determinare le sue scelte finali combina un pasticcio perché non riesce a ripagare i grossisti ai grossisti una partita che avrebbe dovuto rivendere e questi gli hanno dato un piccolo bonario avvertimento tenendolo appeso per i piedi dalla finestra dal trentesimo piano di un albergo finché ha vomitato anche l'anima a quel punto sneider ha capito che tirava una brutta area e se l'è squagliata da vancouver direzione los angeles permettersi a fare il gigolo l'escort di lusso per clienti di ambo i sessi ma neppure in quel campo ha mietuto particolari successi per cui non gli è rimasto altro che da fare che tornare a vancouver tenendosi però alla larga dai vecchi giri si è inventato il mestiere di talent scout di aspiranti modelli e attrici ha provato a promuoverne alcune senza grandi risultati fino al giorno in cui tra la fine del 77 e l'inizio del 78 si è imbattuto nella cameriera di una gelateria della catena dei riquini una ragazza diciassettenne che lavora per mantenere una famiglia disastrata trascurando la scuola una ragazza biondaltissima incredibilmente bella timida e riservatissima che si chiama dorothy ruth oakstraten e che non pensa nemmeno lontanamente a fare carriera nel mondo dello spettacolo dunque la futura dorothy è nata anche lei a vancouver nel 1960 il padre se ne è andato presso di casa lasciando lei la madre il fratello alle dipendenze dell'assistenza sociale che a un certo punto è stata sospesa costringendo i figli a lavorare per far quadrare il bilancio familiare in più la madre ha avuto un'altra figlia nel 1968 da un uomo che prima ha promesso di sposarla e poi ha preso il volo la famiglia però è molto unita e dorothy è abituata a comportarsi come una ragazza assennata non dando mai confidenza agli estranei e tenendo bene alla larga i tanti sfaccendati che l'hanno sempre infastidita da quando ha smesso di essere una bambina ma schneider è un classico manipolatore e sa come presentarsi altre ragazze dicono che è un formidabile fotografo e gente che ha procurato loro delle buone occasioni per lavorare nello spettacolo e lui stesso ostenta una posizione finanziaria invidiabile dorothy ignora che è sempre pieno di debiti e le fa regali costosi e romantici agli occhi di una ragazzotta ignorante di periferia niente di strano che appaia come un principe azzurro così come anche la madre che firma subito tutte le carte per affidare a schneider la gestione della carriera di dorothy ancora minorenne all'inizio il rapporto è solo professionale ma presto subentra un forte elemento sentimentale dorothy è innamorata del suo pigmalione e disposta a seguirlo dappertutto e ubbidirgli senza riserve nell'estate del 1978 dorothy lascia a vancouver la famiglia la scuola il lavoro per andare con schneider a los angeles dove comincia a essere conosciuta con il nuovo nome di dorothy stratte le foto che schneider ha inviato a playboy non le hanno fatto vincere alcun concorso di bellezza ma non sono passate inosservate editore della rivista hug hefner l'ha messa in mano a fotografi professionisti e ha fatto pubblicare alcune sue foto poi le ha trovato un lavoro di coniglietta le famose playboy vannis le cameriere ammirate ben pagate nel playboy club di century city il più importante dell'area di los angeles da lì sono arrivate altre offerte e dorothy ha interpretato in breve tempo tre filmetti senza senza troppe pretese nei quali però si è fatta notare sia per la sua prorompente fisicità sia perché come attrice sembra avere un qualche talento due parole vanno spese anche su playboy e su hug hefner playboy fondata nel 1953 è una rivista americana di lifestyle per un pubblico soprattutto maschile da sempre orientata verso la liberazione dei costumi sessuali e verso la politica di stampo liberal tanto che ha sempre sostenuto i candidati alla presidenza democratici contro quelli repubblicani i suoi servizi fotografici di donne sono sempre eleganti e raffinati ma i volgari e non di rado hanno mostrato protagonisti d'eccezione ad esempio il numero di febbraio dell'82 dell'edizione italiana rimasto famoso per il servizio sull'attrice aderiana russo che determinò la rottura tra la stessa e il suo compagno pippo baudo alimentando i gossip per diversi mesi presentava un servizio in cui apparivano senza veli o succintamente svesti vestite alcune donne manager italiane di successo quasi tutte di mezza età nella location dei tetti dei palazzi della zona degli affari di milano inoltre i generosi assegni pagati da playboy per tutti i racconti pubblicati hanno aiutato a campare o glielo hanno proprio permesso molti tra i maggiori scrittori del novecento americano tipo philip dick philip rot e o chuck palaniuk e altri per non parlare degli autori di strisce a fumetti o di quelli disagi su qualunque argomento insomma playboy al di là di ogni possibile considerazione è un elemento irrinunciabile della cultura contemporanea la rivista però rappresenta solo una parte delle attività di una holding che gestisce soprattutto locali di intrattenimento per gente che ha parecchio da spendere frequentati sia dalla migliore sia dalla peggiore società americana le bunnies le cameriere che passano dalle pagine della rivista al locale viceversa hanno avuto spesso brillanti carriere di modelle o più raramente di attrici ma il fatto che queste siano cominciate prestissimo a portato non di rado alcune di esse a perdere il controllo della propria vita e a rovinarsi con la droga o con l'abuso di alcolici l'impero economico di playboy è stato fondato da uno psicologo di chicago hug efner vissuto dal 1926 al 2017 nei primi anni cinquanta efner che aveva lavorato nel campo editoriale in riviste prestigiose come squire investì tutti i suoi risparmi e dei soldi ottenuti in presto da parenti e amici nella creazione di una rivista completamente innovativa e si assicurò un servizio fotografico su una starlet emergente di hollywood marylin morrow per il primo numero questo primo numero avrebbe fatto la fortuna di entrambi vendendo oltre 500.000 copie efner che non incontrò mai la morro da viva si è poi fatto seppellire accanto a lei nel cimitero del westwood village memorial memorial park di los angeles ma torniamo alla nostra storia a dorothy e a snyder come vedete roberto fa degli excursus ma che secondo me sono molto molto interessanti degli off topic molto molto interessanti ci spiega molto della della storia che di cui parliamo torniamo a dorothy e straten efner entra gamba tesa nel rapporto tra i due perché da uomo di mondo qual è ha subito capito che personaggio è snyder e cerca in tutti i modi di allontanarlo dalla ragazza snyder capisce a sua volta l'antifona e provvede rapidamente a legarla ancora di più a sé convincendolo a sposarlo nel giugno del 1979 più tardi salteranno fuori rivelazioni e illazioni riguardo un interesse personale di efner verso dorothy sempre smentite dal diretto interessato a volte il destino si diverte a sparigliare le carte a sorpresa e tra i due litiganti spunta il terzo incomodo questo è il tipo di personaggio che meno ci si aspetterebbe di trovare una storia del genere un intellettuale uno studioso del cinema del passato un regista di film d'autore peter bogdanovic nato nel 1939 favorevolmente impressionato dalle prime prove attoriali di dorothy la scrittura per il film che sta per girare girare e tutti risero la scrittura scusate la scrittura per il film che sta per girare e tutti risero a bogdanovic notoriamente piacciono le bionde molto più giovani di lui e il suo impegno nel promuoverle ha fatto la fortuna di qualcuna di esse come l'ex moglie cyril shepherd donna di grande fascino ma attrice non proprio memorabile per questo nuovo film una commedia ambientata a manhattan bogdanovic ha fatto le cose in grande scritturando due star del calibro di ben gazzara e audrey hepburn che all'epoca avevano anche una storia ma si lasciarono proprio durante le riprese e ha riservato a dorothy un ruolo da coprotagonista dorothy si impegna molto sia sul set sia fuori ha deciso di diventare una vera attrice e si sfinisce a prendere lezioni di dizione recitazione e tutto quanto possa esserle utile per sfruttare questa grande occasione dal canto suo appena ha cominciato a frequentarla bogdanovic ha deciso che sarà lui il suo vero pigmalione la presenza di snyder al fianco della ragazza e di efner dietro le quinte non rappresentano ostacoli insomma insormontabili qualche anno dopo questa vicenda nel 1984 bogdanovic pubblicherà un controverso libro the killing of the unicorn e gli varrà una causa per difamazione intentatagli da mark goldstein da lui accusato esplicitamente di aver sempre saputo le reali intenzioni di snyder e nonostante questo non essere intervenuto per farlo in cui scriverà che efner si era approfittato della ragazza nel periodo in cui faceva la bunny a century city arrivando a stuprarla quando lei gli aveva opposto resistenza e che questa era una prassi normalissima nell'ambiente di playboy bogdanovic sarà sia pure per un breve periodo il grande amore della vita di dorothy quello che non vede in lei solo una bionda spettacolare ma anche soprattutto una persona piena di sentimenti e di emozioni dorothy odia l'idea di doversi mostrare nuda per guadagnarsi da vivere odia anche la realtà quotidiana degli uomini che si voltano per strada a guardarla quando passa dice di sentirsi un fenomeno da baraccone una specie di mostro da esibire per fare dei soldi trova che la sua è una bellezza maledetta non ha neppure idea di quanto questo sia vero la sensibilità e l'umanità che rivela sotto le apparenze fanno innamorare anche bogdanovic che le propone di andare a vivere con lui in un hotel di los angeles e di divorziare da snyder per sposarlo snyder in effetti si sta rivelando un pessimo affare come marito non lavora e lei deve mantenerlo spende con la massima larghezza i soldi che lei guadagna e oltretutto sta diventando sempre più geloso e possessivo appena finite le riprese del film dorothy capisce che è arrivato il momento di mollarlo e lo lascia però gli è ancora molto affezionata e decide di liquidarlo il più generosamente possibile ma snyder fa continuamente storie non vuole parlare con gli avvocati e la trattativa deve condurla lei personalmente se solo dorothy intuisse che cosa l'aspetta potrebbe farlo fuori senza troppi complimenti mollarlo e mandarlo al diavolo invece deve quasi pregarlo per fargli accettare tutta la generosa liquidazione in termini di contanti titoli immobili che ha deciso di offrirgli come risarcimento della vita di lusso che non vuole più pagarli ed è proprio per sugellare un accordo al riguardo che la mattina del 14 agosto del 1980 è andata da lui oggi gli psicologi raccomandano fermamente alle donne di chiudere le relazioni tossiche senza perdere tempo evitando in ogni modo qualsiasi ultimo incontro specialmente se in assenza di terze persone e in particolare quando si ha a che fare con uomini ossessivi e violenti purtroppo la cronaca nera ci mette continuamente davanti a storie di donne che non hanno ascoltato questo fondamentale consiglio a doroti comunque non la consiglia nessuno tutti pensano che snyder sia solo un fallito e che non rappresenti nessun pericolo torniamo a quel giorno è sera e patti lorman sta per i fatti suoi quando viene contattata da mark goldstein questo è preoccupato perché dalla mattina sta cercando di contattare snyder che non risponde patti sta insieme a un'altra ragazza anche lei temporaneamente ospitata da snyder salutano gli amici e tornano alla casa di west los angeles la macchina di doroti è parcheggiata nel cortile e quindi pensano che lei si sia trattenuta lì la casa tuttavia è silenziosa in un silenzio irreale peggio che se fosse vuota quando patti apre la porta della stanza da letto la prima cosa che vede è il corpo nudo di snyder seduto sul pavimento con la schiena appoggiata al muro completamente imbrattato di sangue con un buco in testa e il fucile tra le gambe pochissimo distante disteso su un fianco per terra c'è il corpo di doroti con la testa sfondata e mezzo cervello che è finito sul pavimento i successivi accertamenti della polizia scientifica riveleranno che il delitto un omicidio suicidio si è consumato quasi subito dopo l'arrivo di doroti verso le 13 snyder la prima picchiata poi stuprata poi le ha sparato alla testa con il fucile portandole via anche un dito perché lei ha alzato una mano per proteggere il volto poi ha di nuovo abusato del cadavere e infine si è sparato a propria volta alla testa il caso giudiziario aperto e chiuso contemporaneamente per la morte del reo ma doroti stratten è un fantasma che ossessione ragazzi scusate è ferragosto e ogni tanto mi faccio fatica oggi è stata una giornata molto lunga ma doroti stratten è un fantasma che ossessionerà a lungo lo star system hollywoodiano il film e tutti risero ottiene buone critiche ma è un flop al botteghino bogdanovic quasi impazzito dal dolore per la perdita di doroti affronterà spese enormi per farlo ugualmente distribuire in tutto il mondo fino a contrarre una montagna di debiti nel 1983 il regista bob foss specialista in musical ma anche all'occorrenza spietato critico dell'american way of life ad esempio con il film lenny nel 74 che ricostruisce la storia di un vero di un comico new yorkese lenny bruce letteralmente costretto al suicidio da una persecuzione poliziesca giudiziaria degna di un regime totalitario dirige un film pieno di rabbia sulla vicenda di doroti intitolato star 80 in cui fa pezzi soprattutto efner è scritto come un pimp un magnaccia ossia gli stessi termini in cui efner stesso definiva snyder e bogdanovic colpevole di aver sottovalutato i rischi che doroti correva molti critici hanno trovato una difesa forse involontaria di snyder descritto come una persona fragile e insicura a molto umana nonostante l'orrore di cui è responsabile ma altri hanno sottolineato che questa impressione è frutto essenzialmente della bravura del suo interprete il giovane eric roberts il fratello di giulia che riesce a dare al personaggio più spessore di quanto ne avesse in realtà in quanto ne avesse in realtà doroti è interpretata da mariel hemingway una delle due nipote attrice dello scrittore primo nobel del 54 la vicenda ispirerà anche altri film e tv music tv movies meno noti bogdanovic aspetterà fino al 1985 per rendere omaggio alla memoria di doroti e lo farà da grande artista dedicandole il film che nessuno si aspetta dietro la maschera la storia di un adolescente disperatamente innamorato della vita nonostante una malattia la leontiasi che oltre a condurla una morte prematura gli deforma il volto rendendolo spaventoso alla vista di chiunque il giovane rocchi interpretato da eric stolz è ciò che doroti si sentiva un mostro un fenomeno da baraccono da baraccone della cui umanità e sensibilità non importa niente a nessuno bogdanovic sentirà anche in obbligo con la famiglia di doroti alla quale darà sempre il massimo sostegno economico tra l'altro paga agli studiare della sorella minore luis beatrice stratter che a sorpresa nel 1988 sposerà scusate che sposerà bogdanovic appunto al momento delle nozze lui ha 49 anni e lei 20 luis ha poi avuto una dignitosa carriera di attrice sceneggiatrice produttrice è stata diffusa la diceria che bogdanovic l'avesse tenuta come amante fin da quando lei aveva 13 anni ma nonostante il divorzio dal regista del 2001 la donna sempre respinto queste voci dichiarando che bogdanovic è ancora il suo migliore amico eccoci qua ho finito la lettura dell'articolo io vi chiedo scusa per i troppo frequenti errori ma oggi ho spiegato tutto il giorno spiegato scusa adesso ho parlato tutto il giorno con degli amici di annunaki di astronauti alieni di probabilità che esistano gli alieni di evoluzione eccetera sapete le mie posizioni al cento per cento scettica a riguardo e quindi è tutto il giorno che parlo 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 sono arrivato stasera un po un po scarico ecco comunque avete sì ho finito ho finito elisabetta ho finito anche l'acqua mi sa e non ho parlato le contere appetiste nient'altro io beh comunque non sviamo troppo l'argomento e ragione dunque oggi mi è piaciuto parlare di questo omicidio suicidio perché in realtà purtroppo la il come dire l'errore di tante donne che tante donne fanno nell'essere troppo concessive nei confronti di storie che ormai sono finite e nel concedere sempre altro all'uomo che non si vuole rassegnare alla fine di una storia io racconto un piccolo dopo racconterò un piccolo anedito comunque è uno dei io credo che sia un veramente uno dei problemi del cioè di una delle cause principali poi dei femminicidi devo dire la verità nel senso che ho avuto ogni tanto la fortuna di incontrare donne molto decise e che anche i momenti di indecisione naturalmente non sono né geloso né possessivo né ossessivo ma nei momenti di indecisione sono state molto molto decise invece nel porre termine magari una relazione e questo aiutato aiuta tutti aiuta me aiuta tutti e purtroppo invece da rotistratte non era di questa di questo avviso e ha pagato questo suo errore erro se possiamo chiamarlo errore in realtà errore comportamentale lei non ha nessuna responsabilità ovviamente ha pagato questo errore comportamentale con la vita ecco e dunque e quindi niente l'ho voluto leggere in questo in questo questo ferragosto ovviamente perché è stato un delitto compiuto a ferragosto e si è si è come dire si è era un omicidio da tanto che non facevo una live è un omicidio che gli stava molto bene allora ho visto che tanti mi state dicendo per la maglietta qualcuno sta dicendo qualcos'altro vabbè e dunque la maglietta vi ricordo che la trovate su pampling che me la regalate mi ero lamentato un sacco perché nessuno nessuna azienda mi cagava ve lo dico chiaro e tondo e non mi non mi contattava c'è stata un'azienda che si è fatta avanti mi ha regalato qualche maglietta e io ho preso su la la palla al balzo ed effettivamente ne hanno vendute un sacco perché ho visto che hanno venduto tipo qualcosa come 30 magliette con questo codice vanilla se vi interessano queste magliette qui ne avete viste altre col codice vanilla ve ne regalano vi regalano un paio di calzini ecco e devo dire che sono veramente molto molto bene sono proprio belle perché sono strette qui no e qua e però poi sono sono molto lunghe che è una cosa che per gli alti come me non è molto facile perché magari se sei un po magro e comunque non necessariamente grosso e prendi una maglia grossa per averla lunga è difficile cioè è sempre difficile trovare le magliette lunghe lunghe ma che stiano bene anche sopra stop chiudo il chiudo chiudo il ragionamento qui ecco perché non parliamo di magliette per cialetti ragazzi niente no non sono sono cose che vengono dall'oggi assolutamente non c'entrano nulla con con sono altri regali questi regali effettuosi e niente altre cose dunque scusate stavo parlando di dorati straten e niente in realtà io credo che non ci sia molto altro da dire nel senso che roberto ha descritto talmente bene tutti gli aspetti della vicenda in il suo lunghissimo articolo che assomiglia quasi a un libro che non sarete resi conto che non aggiungo altre parole però devo se posso invitare nuovamente sia le donne a rifugire un po da relazioni gelosive ossessive possessive ma soprattutto a chiudere quelle relazioni che si possono rivelare foriere di conseguenze nefaste ecco insomma lo ribadito una volta di più con il bellissimo articolo di roberto ecco marina gallucci e e ancora commenti grazie per ancora per l'altro giorno bisogna parlare di donne carnefici non solo di vittime si guarda ne ho parlato ho parlato di Aileen Wurnos se non sbaglio oddio io chiedo scusa non ricordo se ci ho fatto il video però come editore ho pubblicato su su vanilla la storia di Aileen Wurnos che per l'altro è stato fatto un film con non mi ricordo come si chiama l'attrice bellissima bionda americana ma brava e brava una delle bionde americana e brava e una prostituta che si ribellò e poi parlai anche di un'altra donna che lei vessata da relazioni tossiche con uomini che picchiavano e insomma facevano del male sostanzialmente devo dire che nei casi che abbiamo affrontato su vanilla non sto dicendo che siano la totalità però devo dire che quando le donne diventano carnefici dietro c'è spesso una ragione molto logica molto logica che non è quella della possessività almeno i casi che abbiamo trattato noi su vanilla sono sono di questo tipo cioè violenze perpetrate a lungo nei confronti di una donna che poi dopo si sfoga diventando a sua volta carnefice sicuramente ci saranno donne possessive presumo immagino su vanilla non ne ho non ne ho trattato sono sono sincero ecco c'è la esterno bravissima grazie scusate sudafricana ma penso che abbia preso la cittadinanza andate a vedere per favore e via lo dico perché naturalmente insomma niente di cioè mi sembra giusto parlarne ecco io dico sempre devo dire la verità secondo me ecco questo lo dico perché è una cosa che ho sentito io in primis no faccio un po di autopsicologia autopsicanalisi e tutti ricordate sicuramente chi di voi è giovane o non giovane scusate chi è alla mia età quindi non dico di mezza età ma ci si avvicina alla mezza età e oppure anche le persone un po più grandi si sono rese conto che nei per dire nei cartoni disney non i classici disney si impara moltissimo ad amare ad amare a innamorarsi perduta mente di una persona eccetera in realtà la nostra società non si non ci insegna mai ad abbandonare cioè non ci insegna mai ad accettare il fatto che la bellezza della vita e avere tante relazioni che non devono essere per forza come dire amorose la bellezza della vita avere tante relazioni io credo almeno questa è la mia personalissima opinione avere tante relazioni le amicizie amorose o anche non amorose con persone dell'altro sesso e e poi dopo capire che ci sono dei momenti in cui le persone si incrociano stanno bene insieme per un certo periodo e poi dopo che le proprie strade prendono percorsi diversi e aver voluto bene a queste persone ci deve soltanto arricchire ecco e arricchire in un modo che non deve essere possessivo ma deve essere di secondo me di ricchezza e crescita personale lo dico perché me l'ha insegnato soprattutto una persona con cui ho condiviso un pezzo di questa strada nel passato e da allora la mia vita è cambiata veramente in positivo e accettare il fatto che bisogna si deve arrivare all'abbandono delle persone no cioè scusate non all'abbandono a dei momenti in cui le strade prendono due due vie diverse e voler bene comunque questa persona ma non essere ossessionati da essa io credo che sia veramente importante e ci aiuta a vivere molto meglio la nostra vita non solo per una questione di correttezza con gli altri ma la gelosia la possessività eccetera ci costringe no in una in un in un loop di sentimenti che all'inizio ci sembrano positivi ma che con grande facilità poi si tramutano in negativi e invece non ci consentono di apprezzare la bellezza della vita cioè avere vicino tante persone tante diverse in modo che riusciamo a vivere una vita più liberi ecco io lo dico così naturalmente non è che voglio dire non è che sto come dire promuovendo la una libertinità una libertà totale no assolutamente però dico si possono portare avanti tanti tipi di relazioni di amicizie amorose eccetera senza dover essere per forza possessivi accettando pacificamente la fine di una relazione l'ho letto per dire l'altro giorno un articolo su repubblica mi sembra una donna di 42 anni quindi poco più grande di me e il suo uomo anche lui più o meno un nostro coetaneo che sono arrivati in vacanza scusate che erano in crisi si sono riabbracciati diciamo amorosamente una sera hanno deciso di andare a vacanza in vacanza insieme hanno prenotati sono arrivati all'hotel arrivati all'hotel si sono resi conto che semplicemente la loro relazione era finita una storia molto credo molto comune che possa succedere a tutti arrivati all'hotel si sono abbracciati hanno pianto per un po' dopo lui semplicemente ha ripreso l'aereo di ritorno e è tornato in italia lei è rimasta a fare la vacanza non so quali tipo di accordi avessero preso ovviamente plausibili e logici però tutto qui la relazione è finita non c'era ci si dispiace ma non come dire non se ne fa un dramma e si va avanti per la propria strada io credo che devo dire la verità da quando ho iniziato a vivere la mia vita in questo modo mi sono sentito molto 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 più libero ricco e felice quindi vi do questa mia piccola esperienza io non sono un psicologo un consulente matrimoniale né nient'altro però vi racconto la mia semplicissima esperienza se anche doroti e il suo e suo marito avessero avuto questa filosofia lei forse l'aveva lui no se anche suo marito fosse stato educato a questa facilità all'abbandono che ripeto nella nostra cultura manca molto siamo molto educati ad amare ma pochissimo educati ad abbandonare sicuramente non non sarebbe successo con quello che è successo ecco mi fermo qui con la col mio monologo che forse ha annoiato tutti e assi è vero maria si si chiamava non mi ricordo si sia sudafricano lui adesso ho capito ci scrive maria mi ha colpito l'omicidio compiuto a quel corridore senza gambe che correva con le protesi non ricordo il nome adesso non mi viene in mente sì anche a me colpi molto lui allora le donne dice barbara le donne carnefici si contano i femminicidi sono parte integrante della storia umana sì è vero considera però anche questo mi preme dirlo secondo me se ne cavalca un troppo l'onda perché per esempio in italia si parla di circa alcune decine di casi all'anno dai 50 e 70 80 casi l'anno di femminicidi femminicidi intesi omicidi di donne fatti a scopo passionale o di gelosia che sono tanti sono 70 80 di più di quelli che dovrebbero esserci ma sono comunque un numero nel come dire nella totalità sulla totalità della popolazione che secondo me non deve faccia ha molto di più conseguenza sociale il terrore di questa cosa rispetto al vero problema in sé però è bene è bene parlarne ma è bene parlarne facendo giusta informazione non provando le fake news non dicendo sempre ci sono femminicidi in continuazione eccetera perché poi dopo si legittimano questi uomini a fare un femminicidio cioè consideratelo questo cioè non bisogna pensare che il femminicidio cioè che il potenziale assassino si terrorizzi di fronte a tanti femminicidi il potenziale assassino trova conforto nel fatto che ci siano tanti femminicidi quindi io la tratterei non da fake news come spesso viene trattata ma nei termini reali quindi un numero abbastanza decrescente di casi sicuramente negli ultimi decenni e oscar pistorius esatto arianna grazie si sia assolutamente buonasera penny katrin marras ci dice purtroppo ci sono persone che non riescono a vedere l'altro come altro da sé verissimo per questo succede tantissimo anche coi figli ed è qualcosa di molto molto brutto secondo ma che ci impedisce di vivere bene le come dire anche la genitorialità insomma e grazie nella tana d'anconiglia silvana dice io che devo dire che il mio ex vive nel mio stesso palazzo ma magari avete una relazione amichevole perché no dalla landa un po questo messaggio lasciarsi volendosi ancora bene esatto esattamente e sarà dice ecco il marito che ha commesso un grave errore assolutamente sì solo che lui l'ha pagato in prima persona ma l'errore il suo doroti che non ha commesso un errore l'ha pagato in prima persona se vogliamo è stata ingenua a livello comportamentale io so che è brutto dare come dire voler addossare sembra che uno voglia addossare una parte di colpa d'oroti ma in realtà non è così è chiaro che lei non ha nessuna colpa ma avrebbe potuto comportarsi in modo più furbo questo concedimelo ed è e bisogna dirle queste cose qui comportatevi in modo furbo e dunque diletta dice manca la maturità nelle persone figuriamoci la maturità nella coppia se si è immaturi soggettivamente figuriamoci l'immaturità nel lasciarsi viva i single liberi senza pensieri bene e aria ariana muselli mi dice il tuo ragionamento funziona con le persone intelligenti si è vero hai ragione sono d'accordo non tutte le fasce di popolazione hanno accesso è brutto da dire così ma è vero non tutte le fasce di popolazione hanno accesso a quel tipo di cultura che ti porta ad avere una libertà totale di pensiero come possono avere come dire le persone più istruite ecco questo almeno mi sembra che sia mi sembra che sia stato così io l'ho sempre riscontrato roberta pasini dietro a queste persone ci sono spesso problemi che possono arrivare anche dalla loro infanzia e che procurano loro in sicurezza e dice andrea giovanissimo lo ricordo un po la mascotte di vanilla è così bello che uno rimanga amico ci sono amati alcuni hanno figli ognuno si rifà una vita e barbara zanini hai ragione ha bisogno a tener conto del disequilibrio psichico alessandro dice ma la maturità viene col tempo un frutto se gli accelleri la crescita diventa acerbo questo è vero hai ragione infatti io lo dico tranquillamente quando ero piccolino ero geloso anch'io come penso fossero tutti poi dopo piano piano uno matura e via insomma allora silvana dice anch'io metto un muro ma solo nei primi periodi della rottura con il tempo non dico che si debba arrivare un'amicizia ma un rapporto cordiale sì elisabetta sembra facile sulla carta è vero sembra facile però deve essere un must guarda io ti dico soprattutto per noi maschietti lo dico perché c'è noi tendiamo davvero essere troppo possessivi tante volte probabilmente perché abbiamo più la tendenza ad avere difficoltà ad avere dei rapporti facili questo è inevitabile insomma per logiche di facilità della conquista dell'uomo e della donna che non devo spiegare e quindi l'uomo tende sempre essere molto possessivo più geloso insomma marco del ricco una volta ho parlato con una ragazza americana la cui compagna a distanza del college ha rischiato di essere uccisa dal suo ragazzo ma si è difesa essendo in america possedeva un'arma da fuoco andrea mi dice matteo sai che ieri su un altro canale ho sentito che se storia nel 2018 volevano togliere la maturità è vero mi sembra di sì mi sembra di sì matteo forse perché c'è mancanza di empatia dice valeria no secondo me noti ripeto è proprio una questione di possesso e di facilità di accesso a dei rapporti con l'altro sesso la locandiera dice siete possessivi perché a livello inconscio volete essere sicuro che sicuri che la prole sia vostra peraltro vi invito guardate scusate faccio un piccolo off topic oggi è uscita una recensione bellissima non solo su vanilla ma su sulla divulgazione in italia in generale in cui ho avuto un piccolo onore di di essere incluso insieme ad altri tre youtuber e devo dire che mi ha fatto davvero piacere e a questo proposito vi consiglio di andare sapete che parlo sempre del professor barbero ma vi consiglio di andare a vedere i video del professor telmo pievani che ho scoperto non da troppo ed è in crescita sono dei video bellissimi forse non ha quella capacità carismatica che il professor barbero di trasmettere queste informazioni ma sono una miniera di informazioni d'oro per chiunque voglia approcciarsi alla storia all'antropologia all'antropologia all'evoluzione dell'essere umano davvero mi raccomando andate a vedere i video di telmo pievani perché sono dei capolavori ecco esatto ecco in questo e mi rifaccio il video telmo pievani andatelo a vedere sono tutti video lunghi perché inevitabilmente un conferenziere farli video lunghi ma mi raccomando sono davvero importanti per capire tante tante cose riguardo l'evoluzione dell'essere umano e quando vi parlano vi parleranno come a me oggi di annunaki avrete i solidi argomenti dalla vostra parte e bene mi fa piacere che visitate i video e volevo dire ecco e infatti diceva telmo pievani appunto professore dell'università di padova diceva una cosa molto interessante noi homo sapiens siamo una specie scusate i maschi dell'homo sapiens quindi io mi ci metto inevitabilmente nel mezzo siamo abbiamo una serie di fortune una serie di sfortune non abbiamo un marcatissimo dimorfismo sessuale quindi siamo abbastanza simili fisicamente le donne non ad esempio come la rana pescatrice che la rana femmina quella che vediamo è solo la femmina perché il maschio è grande come questo coso qui tipo invece la rana pescatrice una la femmina grande così insomma noi homo sapiens siamo abbastanza simili al al alle donne questo dovrebbe farci pensare a una specie a una grande tradizione monogama ma in realtà questo non accade sempre non accade in tutti i casi e comunque noi maschietti homo sapiens non possiamo mai essere sicuri del fatto che la prole sia nostra mai poi è chiaro che se si è su un'isola deserta non non c'è dubbio però viviamo sempre un po con questo come dire questo problema di assicurarci che la prole sia nostra quindi forse un po di possessività effettivamente viene anche da quello io personalmente devo dire non so se è natura o no lui fa una bellissima distinzione fra quello che è natura quello che non è natura ci dice ci spiega che le scimmie e quattro specie di scimmie vicine a noi che sono i gorilla i bonobo i scimpanzè e un'altra specie che non mi ricordo e hanno quattro comportamenti chiamiamoli matrimoniali quindi accompiamento fra loro completamente diversi alcuni sono monogami altri sono sperimentatori anche omosessuali del sesso altri non sono monogami insomma eccetera e quindi non so quale sia la natura delle cose sappiamo soltanto che il maschio delle coppie può solo inseminare più femmine possibile per avere un maggior numero possibile di figli eccetera questo secondo me è un po la lezione che ne traggo dalla natura perché altrimenti avrebbe cioè mi sembra che questa sia la reazione cruciale poi a livello di socialità tendiamo a essere monogami ma la natura cioè a logica più femmine si riescono a fecondare e più possibilità abbiamo di essere noi gli effettivi padri ecco di riuscire a trasmettere il nostro patrimonio genetico però a parte questo io ricordo a tutti che quando si parla di natura si parla di tendenze comportamentali eccetera io voglio dire che noi siamo homo sapiens e che quindi noi sfidiamo tutti i giorni della natura io stesso e moltissimi di voi magari o di persone a voi vicine dovrebbero essere già morte per la natura io soprattutto quante volte mi sono salvato da sicure cancrene con gli antibiotici mi hanno tolto la colecisti che era strapiena di sabbia biliare mi avrebbe portato sicuramente è un'infezione pancreatica e sicuramente la morte quindi la natura noi la sfidiamo il destino della natura tutti i giorni quindi se la natura ci impone un comportamento possessivo non è detto che la cultura non ci possa invece portare a dire no fermo sì la natura magari ti può portare la natura diciamo così sì la tendenza istintiva ti potrebbe portare essere possessivo per trasmettere il tuo patrimonio genetico ma in realtà il fatto che tu sia un homo sapiens ti obbliga così come operi la golecisti o come utilizzi gli antibiotici a usare il cervello prima dell'istinto e a non diventare possessivo senza ragione questo è come la la penso io ecco può essere valeria sì la gelosia intrinseca ma non credo schiacciare del tutto non lo so questo non penso che ci sia una cosa intrinseca e se ti guardi questi video di telmo pievani molto interessanti capisci che non è vero che è intrinseco perché tantissime scimmie per dire ad esempio i gorilla hanno degli harem se non ricordo male i bonobo sì me lo ricordo i bonobo fanno sesso allegrissimamente fra tutti e anche omosessuale quindi proprio c'è una grande felicità sessuale diciamo mettiamola così e quindi non penso che ci sia qualcosa di intrinseco io penso che ci siano dei comportamenti che spesso il nostro pensare che la nostra cultura ci tramanda ci impone un po' di fare cioè il maschio possessivo un po' piace alle volte no piace per cultura perché dice un maschio che dimostra anche la sua forza in realtà penso che sia ora è momento di pensare che non solo il maschio possessivo è forte ma che ci sono ben altri modelli di uomini che possono essere altrettanto vincenti nel trasmettere il proprio patrimonio genetico e altrettanto affascinanti nello stare come persone con cui stare insieme ecco poi io magari sono troppo radicale non lo so ma davvero penso che una convivenza felice si basi sulla totale libertà insomma dice penny l'evoluzione dovrebbe includere anche il superare certi stinti animali esatto sono completamente d'accordo saluto la locandiera federica fidopanti dice se un uomo pensa che la parola non sia sua vuol dire che non ha fiducia nella propria compagna assolutamente sì è vero oggi ci può essere una fiducia col dna un tempo quindi diciamo così hai un come dire un tempo è un tempo limitato che l'uomo può avere la certezza con esami del dna fino a 60 70 anni fa non potevi farlo quindi è così mai la cavazzana ci dice la donna è descritta nella bibbia come un vaso più debole in il femminile e deve essere trattata come tale dal marito compagno eccetera guarda abbiamo pubblicato oggi un articolo ieri scusate un articolo sulle donne minoiche che vivevano a creta nel settesimo secolo avanti cristo in circa 3.700 anni fa donne assolutamente libere che non sottoposte al controllo dell'uomo dove la società era prevalentemente matriarcale e o probabilmente matriarcale anche lì non c'è una certezza e finché non verranno non verrà decifrata la linea area sarà molto difficile affrontare il tema ma io credo davvero che se voi vede ecco io vi invito ad andare in un museo chi di voi ha la fortuna di poter arrivare ad atene andare ad atene vi invito ad andare al museo archeologico natale nazionale di atene archeologico etnico museo tisatrina qualcosa del genere si chiama non mi ricordo più come il nome in greco e vi invito a vedere si parte dai duroi mi sembra che si chiamino quindi queste queste statue no che erano circa del sesto settimo secolo avanti cristo dove ci sono queste figure sicuramente le avete presenti sono molto slanciate maschili e mi sembra anche femminili ma non riesco a ricordare comunque nudi no ci sono queste figure nude di uomini e donne nude ok e quindi era la bellezza femminile e poi dopo si passa all'arte greca classica al periodo di fidia al secolo d'oro dell'arte ellenica il quinto secolo poi si passa al quarto secolo al terzo secolo al secondo secolo e poi si arriva al periodo appunto al secondo secolo al primo secolo della dominazione romana in grecia e piano piano vedete le 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 statue che si coprono e si coprono e si coprono sempre di più no e questo è proprio come l'arte ci racconta la storia dei costumi cioè le donne in grecia erano molto libere o erano considerate molto libere da molte culture non da tutte ad atene non potevano uscire praticamente mai di casa ma ad esempio donne spartane erano molto libere mi sembra che anche le donne di tebe fossero libere e corinto forse ma comunque atene era proprio una una città di bacchettoni diciamo e comunque in ogni caso e comunque sicuramente le donne prima le donne minoi che erano liberissime infatti vedete queste donne ritratte sempre se non scoperto quindi non avevano necessità peraltro di coprirlo fra le altre cose se ci ragioniamo no e quindi la donna era è passata da una condizione di grande considerazione come essere più libero fino ad arrivare all'epoca romana in cui vedete queste matrone romane completamente vestite da oddio non ricordo quale sia la veste delle donne delle matrone romane il nome non me lo ricordo più però vedete proprio una differenza enorme e poi dopo si arriva al cristianesimo che ci fa diventare le donne davvero delle recluse ecco la bibbia è veramente secondo me un grande libro da questo punto di vista storico perché ci fa capire come si è passati da una condizione di una donna libera a una condizione di una donna davvero soggiogata al potere al potere patriarcale e comunque aggiungo anche che nell'antico egitto ne hanno fatto un video a parte andatelo a vedere la condizione della donna nell'antico egitto vi garantisco che era un insomma erano le donne erano considerate in tutt'altro modo in modo molto più libero insomma per farvi un esempio le mogli degli operai della necropoli di della valle dei templi di luxor sapevano scrivere quindi comunicavano con i mariti tramite scrittura questo considerate che c'è quante donne cristiane del quarto secolo sapevano scrivere nessuna quante donne cristiane dell'ottavo secolo longobarde magari sapevano scrivere nessuna il passaggio al cristianesimo davvero portato a una condizione drammatica per la donna nella società romana e medievale insomma per le donne c'è sempre un po di fregatura sono abbastanza d'accordo allora nella tana della bianconiglia tra le civiltà antiche qual è stata quella con maggiori libertà sessuali sociali di genere bellissima domanda allora guarda tento di darti una risposta prendila con tutto il beneficio del dubbio ricordate che io sono un professore di storia e sono un semplice appassionato iscritto a storia che si legge i libri per conto suo e ricordate che non sono non posso darvi delle certezze quello che posso dirvi quello che ho studiato rispetto a quello che ho studiato ti dico la verità allora a livello culturale mi sembra di aver intuito che gli egizi potessero avere davvero una grande concezione delle donne vero è che nello stesso periodo le donne erano guerriere anche ad esempio presso le tribù più medio orientali quindi verso la zona che va dalla Siria adesso non ricordo di preciso i nomi ma insomma che va dalla Siria all'Israele insomma all'Egitto eccetera quella fascia lì sicuramente era una fascia in cui la donna aveva un ruolo sociale molto molto importante ecco quindi ti direi subito di primo acchito le donne egizie vero è appunto che probabilmente a creta durante l'epoca minoica le donne avevano davvero una grande una grande importanza e guarda ti invito davvero adesso ve lo faccio vedere io perché sono troppo belle noi noic woman noic woman perfetto ce l'ho anche nella cronologia vi faccio vedere ad esempio come venivano raffigurate queste donne vi condivido la mia schermata ecco adesso magari si è bloccata la live perché devo dare il permesso al computer ok ah no 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 scusate non posso farvele vedere comunque basta che cerchi guarda minoic woman e vedi come erano per farti capire come erano disegnate no lo vedi subito sono donne quasi sempre raffigurate a petto scoperto e sempre molto libere e riccamente vestite questo ci fa capire tante cose cioè il fatto che loro potessero stare a petto scoperto normalmente e il fatto che fossero sacerdotesse che avevano dei propri rituali ci fa capire che avevano un ruolo sociale importantissimo ecco mentre invece naturalmente arriviamo ai secoli bui per la donna della romanità in cui bene ho parlato in tantissimi video delle donne avvocato romane eccetera che non avevano diritto di stare in senato non poter insomma ne ho parlato in tutte le salse delle donne durante la l'epoca romana era veramente un dramma insomma quindi io ti dico ragionerei su quelle civiltà lì egitto e poi creta che era poco poco più sopra con la con il quale l'antico egitto assolutamente si 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 rapportava e poi dopo invece arrivarono i micenei vabbè ma questa è un'altra storia bene esatto andrea barda brava c'è bravo cerca donne minoi che è bravissimo e vedrai le opere d'arte mi raccomando se venite da atene fate un fischio sarò la fra qui fra qualche giorno e manda soprattutto andate a vedere il museo archeologico nazionale di ateneo è vero giudano bruno non solo della donna nel secolo ottavo non si trovavano molti uomini che sapevano scrivere questo è vero però considera che molti uomini sapevano leggere il caso più eclatante non è dell'ottavo secolo ma del nono si è tra l'ottocento quindi fra ottavo e nono secolo carlo magno famosissimo sapeva parlare e probabilmente anche leggere in sei lingue ma non riuscì non sapeva fare a scrivere per questo è stato falsamente accusato di all'unalfabetismo ma semplicemente perché perché mancava la pergamena e la carta la carta non è stata inventata e quindi l'accesso alla scrittura era riservato a pochissime persone preparerò un sacco un sacco di video la in grecia ne ho qualcuno e ne ho qualcuno da fare poi dopo vi dirò anche un po come ci comporteremo nelle prossime settimane bene allora dunque direi che sono le 10 10 io vi ho letto il nostro articolo l'articolo vi do appuntamento con le live molto molto probabilmente a una live atteniese o comunque sicuramente greca ho un sacco di cose che vi voglio raccontare e quindi niente io vi do appuntamento alle live direttamente dalla grecia vi ringrazio per essere stati con me vi auguro una bellissima serata un ottimo fine ferragosto e niente ci vediamo nei prossimi giorni con i video e con le live dalla grecia grazie a tutti e buona serata grazie a tutti